E' un insieme, è tutto quello che mi porto, anche la recitazione mi porta a essere quello che mi porto sul palco. Sicuramente Zeli, sette anni di Zeli, che tutto talmente era improvvisato, perché non c'era mai niente di preparato, che quell'improvvisazione io me la porto. Però tutto quello che io faccio me lo porto, sono tutte piccole pezzettine che io poi mi porto sul palco e me lo aggiostro come mi viene. Sempre, ma come fa a non mancarmi? E' come un marito, anche se ti separi, sarà sempre nel tuo cuore. Però sai, con Claudio non ho perso, la vita va avanti, è ovvio che dovevamo fare tante altre cose, io avevo anche bisogno di fare altro per capire anche cosa c'era dentro di me. separarsi è sempre difficile, però servono a volte nella vita, soprattutto lavorativamente, per andare avanti, anche perché non riuscivo poi a fare altro. Senti, guarda, è da un paio di anni, quando mi chiedono di aver abbandonato la televisione, io non è che l'ho abbandonata. Poi devo dire che ultimamente mi arrivano tante cose per il cinema, quindi è anche un'altra cosa che a me è sempre piaciuto recitare e mi sto buttando, non è che mi sto buttando, dico no, la televisione, quando arriverà e quando... Ci sono stati progetti che mi sono stati proposti in questi anni, però non li ho mai sentiti miei. Non sono andata neanche bene, quindi ho fatto bene anche a dire di no. Mi è stata guarda un po' un po', perché agosto sarò ferma, però inizio questa miniserie per la RAI, che si chiama Anne Yusuf, sempre con Cinzia T.H. Torrini. È una storia molto forte, perché è la storia mia di questo ragazzo musulmano. Entriamo in un argomento che io, infatti quando me l'hanno proposto ho detto, assolutamente, io poi sono una guerrigliera. Ed è la storia mia di questo uomo musulmano che viene spatriato dall'Italia per un errore di polizia e ritrasferito nei paesi arabi. Io prendo mia figlia, ovviamente nostra figlia, e mi trasferisco nei paesi arabi. E lì che cosa vive un occidentale in un paese musulmano, una donna soprattutto. Quindi è un film molto impegnativo. Quando me l'hanno proposto ho detto sì, perché io poi, no, credo che sia un'esperienza bellissima. E quindi avrò uno stop ad agosto, però l'estate girerò questa cosa.